Frutti in Fiore, la manifestazione dei fruttetti in fiore, appuntamenti ludici, gastronomici e tecnici quali lo Stau, Salone delle Tecnologie in Frutticoltura, convegni, premio Frutti in Fiore e dimostrazioni di potatura. Per il palato Frutti in Tavola, cura del Proloco, mercatino, prodotti tipici, stand istituzionali e show cooking. Per chi ha voglia di muoversi a piedi in bicicletta tra i fruttetti in fiore, voli in elicottero, visita ai castelli, artigianato e spettacolo piro musicale. Voglia di primavera? Venite a Frutti in Fiore all'Agnasco dal 31 marzo al 2 aprile. Il marmo di Carrara, per i romani Marmor Lunensis o Marmo di Luna, è un tipo di marmo che è estratto dalle cave delle Alpi Apuane, in territorio di Carrara, universalmente noto come uno dei marmi più pregiati. L'attività estrattiva, vera e propria, si sviluppò a partire dall'epoca romana e conobbe il maggior sviluppo sotto Giulio Cesare, tra il 48 e il 44 a.C. L'esportazione, che avveniva tramite il porto di Luni, assunse allora un'entità tale da rifornire le maestranze e proposte alla costruzione delle maggiori costruzioni pubbliche di Roma e del suo impero e di numerose dimore patrizie. Circa il 75% dell'estratto delle cave è costituito da marmo in scaglie e polvere, impiegato come carbonato di calcio, destinato ad usi industriali, mentre il 25% è marmo in blocchi. Una parte minoritaria del marmo estratto in blocchi viene esportato in forma grezza, mentre la maggior parte viene trasformato in lastre di diverso spessore e poi lucidato per essere impiegato nel settore edilizio. Altra particolarità del marmo di Carrara è che viene utilizzato per creare le conche, dove vengono riposte a strati alterni le falde di lardo suino per produrre il lardo di colonnata. In queste conche di marmo viene riposto il lardo, che viene poi successivamente salato con gli aromi pepe, cannella, chiodi di garofano, cumino, coriandolo e noce moscata, cardamomo, salvia e rosmarino. Le conche strofinate con aglio hanno temperature e umidità particolari, per cui il prodotto finito ha caratteristiche uniche. La vasca piena viene coperta, controllata periodicamente e poi riaperta circa 6-10 mesi più tardi, a stagionatura ultimata. Il lardo di colonnata ha un aspetto umido, è di colore bianco, leggermente rosato e presenta una consistenza omogenea e morbida. Ha un sapore delicato e fresco, quasi dolce, finemente sapido, se proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle erbe aromatiche e dalle spezie usate nella lavorazione e dal profumo fragrante. Il prodotto è ottenuto dai tagli di carne suina, proveniente da allevamenti situati nel territorio delle regioni del nord e del centro Italia. La zona geografica interessata alla produzione di lardo di colonnata è rappresentata dal territorio denominato colonnata, frazione del comune di Carrara, provincia di Massa Carrara. Lanzo torinese, Lanz in piemontese e in franco provenzale. È un comune della città metropolitana di Torino in Piemonte e conta quasi 5.000 abitanti. Si trova all'imbocco delle valli di Viù, di Ala e Grande, denominate Valli di Lanzo. Lanzo è una città storica nel Medioevo, fu un centro politico molto importante, ne dà dimostrazione il suo castello, edificato intorno all'anno 1000, circondato da cinta muraria e da alcune porte fortificate dalle quali si poteva accedere. E di cui si sviluppava il borgo composto da piccole vie chiamate Quintane, ancora oggi esistenti. Ad accoglierci oggi, in rappresentanza di tutti i lancesi, il suo primo cittadino. Benvenuti a Lanzo torinese, cittadina a circa 500 metri sul livello del mare, poco distante da Torino e dalla quale partono le omonime valli. Le attività che noi abbiamo sul territorio partono dall'attività agricole, dove tra l'altro negli ultimi anni abbiamo anche un ritorno a giovani che si dedicano e proseguono le attività familiari. Per noi questo è un valore aggiunto, perché vuol dire che in questo modo i giovani restano sul territorio, sul territorio di Lanzo e delle nostre valli e questo non può che essere un elemento favorevole per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo i nostri prodotti tipici, dalla Toma di Lanzo ai Torcetti al Grissino. Hanno tutti radici storiche e sono prodotti prelibati e vi invitiamo a venire ad assaggiarli e a gustarli qui da noi. Per noi è un posto dove si sta bene, perché l'aria è buona, non siamo distanti dalla città, abbiamo i vari servizi, le scuole. Lanzo è facilmente raggiungibile da Torino, sia in auto. Abbiamo la storica ferrovia Torino-Ceres, che adesso è in fase di sviluppo, rimammodernamento e presto riprenderà pieno servizio. L'aeroporto di Caselle è poco distante, quindi è una meta favorevole e facilmente raggiungibile. Di qui poi ci sono parecchi percorsi accessibili a tutti a seconda del livello di difficoltà e di preparazione e negli ultimi anni diversi percorsi cicloturistici collegano le nostre vallate, i punti del nostro territorio per percorsi che sono anche di parecchi chilometri. Alle mie spalle c'è il Ponte del Diavolo, un ponte storico che risale al 1378, sul quale sono state scritte diverse leggende, uno dei punti caratteristici della nostra città. Il Ponte del Diavolo, o Ponte del Roc, pietra in piemontese, fu edificato col consenso del Vice Castellano di Lanzo, collaboratore di Amedeo VI di Savoia, conosciuto come il Conte Verde. La spesa, interamente sostenuta dalla Castellania di Lanzo, fu di 1.400 fiorini. Per sostenere questa spesa, venne imposta una tassa sul vino per dieci anni. Il Ponte del Diavolo serviva a collegare Lanzo e le sue valli con Torino, superando la Stura e permettendo così di evitare il passaggio in territori governati dai principi di Acaia e da Corio sotto il controllo dei Marchesi del Monferrato, entrambi ostili ai Savoia. Il Ponte, con una luce di 37 metri, un'altezza di 16 e una lunghezza di 65 e larghezza minima di 2,27 metri, costruito a schiena d'asino, si trova in una stretta gola con le pareti a precipizio scavate dalle acque della Stura in tempi preistorici. Su di esso è stata costruita nel 1564 una porta che veniva chiusa allo scoppiare di epidemie come la peste per impedire il passaggio dei forestieri e preservare il borgo. Alle spalle il nostro Ponte del Diavolo che è del 1378, voluto dal Consiglio di Credenza di quell'epoca per unire la sponda destra e la sponda sinistra della Stura e permettere il collegamento della bassa valle con l'alta valle. Eravamo nel periodo di maggior importanza per Lanzo. Basta pensare che in quegli anni gli abitanti di Lanzo erano simili a quelli della città di Torino. In quegli anni viene costruita la torre, importante è ancora tuttora il nostro borgo medievale e dobbiamo anche ricordare il nostro mercato che nel 2019 ha compiuto 800 anni tra i mercati più antichi che ci sono in Piemonte. Non dobbiamo neanche dimenticare le due fiere ad essa collegati, il secondo lunedì di maggio che invece da quest'anno verrà dispostata di domenica e il terzo lunedì settembre. Torniamo al nostro ponte amato del Ponte del Diavolo tra quelli sicuramente più conosciuti dai turisti. Ci sono tante leggende. Quella che forse noi ci ricordiamo maggiormente è quella dell'unione tra i due amanti uno abitava a sponda destra e uno a sponda sinistra la Stura divideva. Il Diavolo dice che in una notte costruirà questo ponte e così la prima anima però che passerà sopra dovrà essere l'anima a lui dedicata. Però c'è qualcuno che è più furbo. San Rocco, dopo che il Diavolo ha costruito questo ponte, fa passare il suo cane. Quindi ci dispiace per il cane di San Rocco, però pensiamo alla gioia dei due amanti che finalmente si possono incontrare e baciarsi sul nostro ponte. Il Diavolo di fronte a così si è sentito preso in giro andando via dal ponte pianta uno zampino forte che ancora attualmente è visibile davanti alla cappella di San Rocco. Pare che già in epoca romana Lanzo fosse ricca di pascoli ubertosi che attraevano coloni i quali costruirono delle abitazioni in cima al monte Buriasco. Ancora oggi parte dell'economia lanzese deriva proprio dall'agricoltura. L'agricoltura delle valli di Lanzo è un'agricoltura di montagna ovviamente perché parte da una zona collinare e finisce in una zona montana. La zootecnia e il pascolo sono la caratteristica delle parti più alte, la gestione del territorio boschivo e dal punto di vista dei prati nella parte più bassa. Le aziende che fanno pascolo fanno anche trasformazione e vendita diretta. Nella maggior parte dei casi la Toma di Lanzo è un'espressione di punta del territorio e in ogni caso al di là della Toma di Lanzo c'è tutto un mondo di casificazione che è collaterale a questa eccellenza e che non è meno eccellente ma ovviamente più artigianale. Il territorio ovviamente essendo in una condizione aclive e con molte aree a bosco dà la possibilità a chi intraprende in questo settore di avere delle possibilità di intraprendere con un potenziale sviluppo importante. Fino a pochi anni fa c'erano molte più aziende rispetto a quelle attuali ma erano aziende molto più piccole. Adesso voi per la necessità di adeguare il patrimonio meccanico e strutturale dell'azienda, voi per le cambiate, cambiate il modo di fare i lavori le aziende sono aumentate come dimensione strutturate in modo più importante e con una richiesta di qualificazione da chi la gestisce ancora più elevata. Quindi le attività che vediamo oggi sono attività di eccellenza in cui però c'è una continuità aziendale di più generazioni come una generazione giovane che comunque garantisce che è uno sviluppo e una potenzialità di investimento che giustifica questa attenzione, questo porre le aziende agricole al centro di un ragionamento che oltre a produrre reddito per se stesse garantiscono al territorio una bella manutenzione perché gli agricoltori in montagna sono sentinelli del territorio e sono anche un baluardo per quelli che sono i riferimenti amministrativi perché il primo elemento di difficoltà che viene segnalato è percepito proprio da chi vive in quelle realtà e di quelle realtà ne fa uno strumento di lavoro. Per cui è importante garantire questa presenza soprattutto nelle zone limitrofe a quelli che sono gli agglomerati più importanti per dare una salvaguardia al territorio e per dare anche per conservare delle biodiversità per conservare un modo di vivere positivo e vissuto per poter andare e fruire di un ambiente necessario che questo ambiente sia vivo sia presentabile e offre delle opportunità a chi lo frequenta. Un'attività quella agricola importante per mantenere la tradizione rurale e montana la sua biodiversità ma anche la tutela e la salvaguardia del paesaggio avendo cura dei pascoli dei fiumi e dei boschi. I boschi qua in Vallata sono molto disastrati negli anni perché non sono più curati quindi ci troviamo in condizione che ci sono molti alberi schiantati molti alberi deperienti che se non intervenissero comunque andrebbero male e comunque evitiamo anche un rischio di incendio nel senso che pulendolo togliendo via tutto non buttiamo giù solo piante belle partiamo prima togliendo quelle brutte facciamo anche una pulizia del bosco altri comuni addirittura ci chiedono solo per fare la pulizia senza fare abbattimento solo togliere le piante deperienti e morte in piedi e via. Anni fa c'era la forestale in sé veniva a segnarci i lotti con la martellatura delle piante e avevano la loro gestione da qualche anno a questa parte ci rivolgiamo a un dottore forestale ce n'è diversi qua in zona ci fanno il servizio di la gestione del bosco nel senso che questa puoi abbattere quella meno ci fanno la martellatura e la domanda in regione c'è lo sportello forestale del comune di Ceres che gestisce i nostri boschi e si sta sensibilizzando un po' il problema perché ultimamente ci sono stati molti incendi ed è difficile anche fermarli perché sottovento che se il bosco è sporco il fuoco purtroppo prende il sopravvento la legna da ardere partiamo dalle piante in piedi una parte ci abbiamo in proprietà una parte la acquistiamo da privati partiamo dall'abbattimento degli alberi compriamo dei lotti in piedi la abbattiamo la portiamo a casa la stagioniamo e a tempo e ora la vendiamo possibilmente come legna da ardere e in alternativa adesso i comuni ci hanno offerto la possibilità di gestire delle caldaie a cipato fornendogli il calore i comuni si sono sensibilizzati perché hanno visto aumentare notevolmente le bollette dei consumi e si stanno buttando su queste caldaie a cipato che vanno benissimo ed è un'alternativa valida in quanto è autonoma al 100% mentre la legna da ardere da un po' più di lavoro nello stoccaggio a fare la legna deve piacere se no non è un lavoro per tutti a noi piace abbiamo fatto anche i corsi di formazione siamo formati facciamo nel meglio modo possibile le attrezzature ovvio senza non si potrebbe far nulla via la legna dicono che scalda due o tre volte è vero perché partendo dall'abbattimento crea già un mucchio di lavoro poi facciamo l'allestimento la carichiamo sui rimorchi la portiamo a casa la riprendiamo la tagliamo la spacchiamo la ricarichiamo la portiamo al cliente finale si prende diverse volte in mano ed è un lavoro faticoso comunque siamo io e i miei due figli per adesso e poi collaboriamo con altre ditte qua locali del posto quando abbiamo dei lavori più complessi qua in zona c'è un po' di tutto a partire dal castagno al frassino faggio gaggia rovere un governo misto qua come zona non tutto in pianura molte volte lavoriamo anche in condizioni in montagna quindi in pendigli presente sul territorio di Lanzo Torinese l'allevamento bovino sia da latte che da carne quest'ultimo anche per la produzione del salame di Turgia la Turgia in Piemontese è la vacca alla fine della sua carriera riproduttiva con la sua carne e con l'aggiunta di lardo e pancetta suina viene prodotto questo salume tipico delle valli di Lanzo la nostra azienda agricola è basata sull'allevamento di vitelli piemontesi facciamo la linea vacca-vitello abbiamo circa 250 fattrici d'estate le mandiamo su diversi alpeggi su un alpeggio di qua solo e su degli alpeggi nella valli di Lanzo in monti di Mezzanile buona parte dell'anno vengono alimentate a erba sia erba seminata che erba costante vengono pascolate quasi tutto quasi tutto l'anno solo il periodo invernale le chiudiamo perché non c'è erba quindi le alimentiamo con foraggio secco e insilato noi abbiamo sempre lavorato con la Piemontese secondo me la razza Piemontese ha un suo perché lo fai per passione allora nel senso del lavoro lo senti meno pesante se no il lavoro con gli animali resta un lavoro abbastanza abbastanza pesante e abbastanza impegnativo a seguire il tutto tra gli alpeggi perché poi tutto il lavoro della fine agione che lo facciamo noi resti tutto l'anno impegnato 365 giorni all'anno gli animali mangiano e quindi bisogna bisogna accudirli oltre all'allevamento della razza bovina da carne piemontese detta anche fassona piemontese c'è chi ha deciso di riprendere l'allevamento caprino ponendo la salute e il benessere degli animali al centro dell'azienda agricola e della produzione di formaggi caprini a chilometro zero l'idea è venuta perché mio nonno aveva dei terreni in questa zona e ho avuto l'occasione di acquistarne degli altri e mi è sempre piaciuta l'idea di riuscire a dare valore a una zona che era sostanzialmente stata abbandonata da anni da tutti i punti di vista e così ho iniziato questa avventura che mi vede ancora qua oggi ho scelto le capre perché ovviamente più si adattano alle pendici scoscese ai terreni pieni di rocce e di erbusti e poi il resto un po' per volte è stato costruito in funzione anche dell'esperienza maturata diciamo che siamo cresciuti assieme io e l'azienda agricola siamo sempre sul comune di Lanzo siamo a 650 metri circa sulle pendici di Montebasso io ho qua la mia attività un'azienda agricola allevo capre e in particolare camosciate delle Alpi e faccio formaggio con il latte che ottengo da queste capre ho scelto le capre camosciate perché rispetto alle sanen quelle bianche sono un po' meno produttive ma sono più rustiche e vista la zona visti i pascoli avevo bisogno di un animale che fosse un minimo rustico per riuscire a sfruttarli negli anni ho cambiato tipo di capre con l'arrivo del lupo perché prima all'inizio avevo capre con le corna molto rustiche che andavano sul pascolo qualsiasi ora si gestivano diciamo era un allevamento più estensivo mentre con l'arrivo del lupo sono stato costretto a vendere le mie vecchie capre e ad acquistarne altre nuove che non avessero le corna in modo che fosse possibile durante la notte chiuderle all'interno della stalla in modo che non potessero essere toccate dal lupo gli animali si alimentano da aprile fino a novembre ottobre novembre con l'erba e con le foglie del pascolo durante l'inverno mangiano fieno che produco io o acquisto da un produttore sempre nel comune di Lanzo il fieno non lo faccio arrivare da altri posti quindi è tutto prodotto in loco l'unica cosa che compro esterna ai comuni di Lanzo e Cafasse dove faccio il fieno è l'integrazione di mangime che mi serve per richiamare le bestie durante la mongitura e per dargli quel po' di proteine in più che gli serve durante la lattazione in questi ultimi anni come formaggi produco sia formaggi freschi che formaggi stagionati di puro latte di capra formaggi freschi abbiamo il tomino fresco e la robbiola fresca il tomino leggermente acidulo cagliata lattica molto cremoso la robbiola fresca invece è una cagliata presamica ed è più tipo un primo sale molto morbido di formaggi stagionati abbiamo una robbiola stagionata che diciamo una variante delle varie robbiole che ci sono nel Piemonte quindi pasta morbida stagionatura di 15 giorni circa abbiamo il tomino stagionato che è più saporito ed è più forte come gusto già un formaggio tipico di capra abbiamo la toma di capra a diverse stagionature abbiamo una toma gessata che è diciamo la pasta ha questa caratteristica di non essere omogenea quindi si sgretola facilmente e quando è stagione se ho abbastanza tempo da seguirlo riesco a fare anche un erborinato di capra il mercato dei miei formaggi si divide principalmente in tre in tre settori il primo è il negozio il punto vendita che c'è a Lanzo Torinese dove vendo personalmente il formaggio che produco e riesco anche a spiegarlo in maniera esaustiva visto che sono io stesso a farlo poi ho alcuni ristoranti che in zona diciamo Lanzo ma anche Torino mi prendono dei prodotti con una certa continuità e poi ho un cliente un grosso cliente in Francia Cannes che ha dei ristoranti lì e che mi prende il formaggio di capra in quantità decisamente interessanti ma io credo che chi compra il formaggio di capra ami il formaggio di capra è difficile vederlo come alternativa nonostante il mio formaggio ma in genere i formaggi di capra non sono di per sé forti non hanno quelle caratteristiche di gusto per qualcuno eccessivi i formaggi di capra sono gustosi ma sono anche delicati l'importante è che il latte venga trattato bene come deve essere trattato però penso che chi ama il formaggio di capra non lo ama perché non può permettersi di mangiare quello di mucca per motivi di salute ma perché il gusto è particolare e sinceramente ha per me ha del valore aggiunto molte sono le produzioni gastronomiche di Lanzo e delle sue valli come la Toma i Grissini e i Torcetti ma questi saranno i protagonisti di un'altra puntata di Agrisapori per oggi finisce così il tempo a noi concesso e vi diamo appuntamento dunque alla prossima settimana sempre col bello e il buono dell'Italia che piace Frutti in Fiore la manifestazione dei fruttetti in fiore appuntamenti ludici gastronomici e tecnici quali lo Stau Salone delle Tecnologie in Frutti Cultura convegni premio Frutti in Fiore dimostrazioni di potatura per il palato Frutti in Tavola a cura del Proloco mercatino prodotti tipici stand istituzionali e show cooking per chi ha voglia di muoversi a piedi in bicicletta tra i fruttetti in fiore voli in elicottero visita ai castelli artigianato e spettacolo piro musicale voglia di primavera venite a Frutti in Fiore all'Agnasco dal 31 marzo al 2 aprile